Gonzalo Eceniche, battere la Grecia, primo step importante di questo europeo? Sì, era una partita molto difficile, la prima degli europei, giochiamo tanto in questa partita, anche abbiamo fatto una preparazione abbastanza dura e niente, siamo arrivati qua per vincere questa prima partita e le altre due che restano. L'atmosfera, bisogna anche abituarsi a questa piscina, questa atmosfera per voi era assolutamente la prima prova, non avevate neanche fatto allenamento qui? Niente, non ho fatto niente, anche tanti giocatori non hanno giocato mai in questa piscina, in tornei precedenti, e niente, per noi era tutto nuovo, però va bene, comunque si è visto all'inizio che stavamo prendendo le misure alla piscina, tutto, eravamo un po', ci siamo messi un po' ad entrare in gioco. Sentite la pressione di essere i campioni del mondo? No, 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 la verità è che non avevamo nessuna pressione, siamo venuti qua a giocare ogni partita, a vincere ogni partita e vedere fino a dove arriviamo. Ora la Francia? Sì, una partita penso che sarà molto dura, loro hanno perso oggi, penso che arriveranno il giovedì a giocare contro di noi con molta forza, sono una squadra molto fisica e saremo pronti. Cosa vuole questa Italia? Vincere, vincere ogni partita e andare avanti sempre.